Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Purtroppo non posso urlare perché quest'oggi ho preparato uno scherzo fenomenale a Carly Infatti mi trovo all'interno della vanilla, come vedete sono solo Perché qualche episodio fa le avete commentato tutti quanti sotto il suo video Dicendole che abbiamo una croce di Herobrine nel nostro mondo Lei ovviamente siccome ha paura di Herobrine, ha paura di tutta la storia dietro Herobrine Mi ha chiesto tutto il giorno se effettivamente Herobrine potrebbe trovarsi nel nostro mondo E io le ho fatto capire un pochettino che c'è una possibilità ma non è certa Quindi quest'oggi le faremo uno scherzo Infatti mi trovo in un mondo copia e con la creativa ho riempito la caverna di cose spaventose e strane Che non dovrebbero succedere su Minecraft Quindi mi raccomando lasciate un mi piace perché adesso la andiamo a chiamare E vedremo la sua reazione al mondo infestato di Herobrine Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft in compagnia della mia ragazza Ciao io sono Carli e che Carli è questa cimmia E oggi ragazzi ci troviamo nella nostra vanilla Proprio perché prima di tutto gli dobbiamo far vedere tantissimi aggiornamenti incredibili giusto? Guarda come ti salta in testa guarda Nel tuo canale li hanno già visti purtroppo ragazzi c'ha l'elmetto in diamante non ci posso fare nulla Non riesco veramente a toglierle l'idea dell'elmetto in diamante dalla testa Orribile Uno di questi giorni te lo brucio Te lo tolgo mentre dormi e te lo brucio Allora dobbiamo far vedere tantissime cose fantastiche Quella la faremo vedere in un altro video perché quello là è il magazzino che abbiamo costruito da poco Ma non solo ragazzi abbiamo anche costruito una stalla bellissima Chiaramente la cosa più bella di questa stalla qual è? La strada questa qua Le mucche No no la strada vedi? Anche le mucche Quali mucche? Quelle che ci sono dentro Ah ci sono delle mucche già? Sì dove sei io guarda Sei bravissima allora aspetta che se no scappano se lasci tutto quanto aperto però Allora abbiamo due mucchette abbiamo due pecorette Ehi ma io avevo fatto partorire la terza mucchina dov'è? Sarà morto il bambino mi dispiace Dai Dobbiamo sicuramente farle riprodurre tutte quante Però la costruzione è molto bella secondo me Cioè è venuta veramente una figata Io ho fatto tutta quanta la recinzione e anche la strada Tutta questa qua che vedete E la fattoria chi l'ha fatta? Ok tutto il resto l'ha fatto lei è vero bisogna essere sinceri Allora andiamo a dormire subito perché quest'oggi Carli andremo in esplorazione Sì in giro per il mondo? Non proprio in giro per il mondo Andremo in caverna Ah ok Ma non in una caverna normale In una caverna paranormale? Sì più o meno Andiamo a dormire No dai in che senso? Che succede ti sei incastrata al muro? Ok vieni Ti ricordi che qualche episodio fa ci avevano detto che Oh mio dio quanti mostri Qualche episodio fa ci avevano detto che nel nostro mondo c'è una croce di Aerobrine Te lo ricordi? Sì no non vorrei andare nella caverna lì giù Tu tu mi hai detto poi No Ale no Per tutto il giorno non hai fatto altro che chiedermi ma c'è veramente la caverna di Aerobrine? È veramente Aerobrine? Dai no Allora aspetta ora ti faccio vedere Dobbiamo esplorarla Perché chiaramente non possiamo lasciare che un mistero del genere ci sia nel nostro mondo Senza assicurarci che non sia veramente qualcosa Ma ti dirò per me può rimanere anche un mistero No non può rimanere un mistero Dobbiamo prenderci di coraggio e entrare ok? Ma tu non mi hai detto la verità esiste ancora Aerobrine nei mondi? Io non posso dirti la verità perché non esiste non c'è una verità Cioè potrebbe esistere come potrebbe non esistere L'unica cosa certa è che le croci di Aerobrine adesso nei mondi sono estremamente rare perché non si generano più naturalmente Quindi questa qua è una rarità incredibile Tra l'altro non è una croce normale perché di solito le croci di Aerobrine sono con due Cioè questo blocco qua, questo buco è in più Di solito sono tipo da tre, capito? Cosa stai facendo? Sacrileggio sei pazza? Cosa stavo... non posso? Vuoi risvegliare i morti? Dai no ho solo dato... non si può fare Non puoi fare queste cose Dai scusa lo tolgo Sei pronta? È arrivato il momento di entrare ed esplorare la croce di Aerobrine No dai e se c'è lui? Ma va figurati non c'è lui Carli Giuramelo Aerobrine non si vede su Minecraft da tipo 12 anni puoi stare tranquilla non ci sarà Ale se c'è Vieni Dai no io non so cosa accade No Carli Dai non iniziare vai tu Carli No vai tu L'hai messa tu quella dai No no non ho messo nulla io Ale vai tu Vieni vieni qua C'è della redstone No 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 Che c'è? Che c'è? Carli c'è una torcia di redstone Vai avanti L'hai messa tu Non l'ho messa io Dai l'hai messa tu Non l'ho messa io No vai tu avanti No vai tu avanti No ho paura dai Vai avanti L'hai messa tu veramente? No non l'ho messa io Non l'ho messa io No c'è anche della polvere di redstone No vai tu No vabbè magari è tipo la... Le mineshaft Eh infatti magari è una generazione soltanto del nuovo minecraft 1.18.1 Però devo dire la torcia di redstone è piuttosto strana Beh vai pure vai tu Allora rompila rompila Cerchiamo di rompere tutto vieni No no Carli è pieno di redstone Li senti? Magari è una generazione del mondo Aspetta 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 li senti? Senti sto suono? I pipistrelli? No i pipistrelli lo sanno tutti Sono segno di Herobrain Vieni scendi Che dici? Sì Carli Ma non è vero ci sono sempre nelle grotte Dici? Sì Vieni giù scendi scendi Devo prendere anche questa redstone? Non ci credo è stranissima Hai visto che c'è tipo una croce di glowstone? Non può essere che sia così lì e punto e basta Una cosa rara Oh 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 ma che cavolo Che cavolo Ma che cavolo Togli togli Che paura Ma dove escono fuori? Vieni 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 scendi scendi Sono scesi da lì in alto Guarda No allora la glowstone No io non scendo Io ti aspetto qua No dai vi scendi Dai Carli dobbiamo esplorare No dai No ho paura Vieni giù Vieni giù scendi Oh mio dio Beh Ale se ci muoio Io sono messa male alla fine Ma come sei messa male? Sei in diamante Di cosa sei messa male? No una spada di ferro Dai scendi Stai tranquilla Non ci sono mostri Non riesco a vedere dei mostri al momento Sento un ticchettio Porca miseria Ma dove cavolo siamo? Ma noi l'avevamo già esplorata questa caverna Guarda c'è una torcia Non mi risulta Ale che l'abbiamo già esplorata Forse l'ho esplorata io quando ti ho cercato i diamanti Io mi ricordo Ma è bellissima No non è bellissima Si che è bellissima Guarda quanta salatite Quante salamiti ci sono E' gigante Tutta questa dripstone E' stupenda E sta cosa di glowstone? E' una croce Carli è una croce E quindi? Non si generano naturalmente le croci Ma magari è qua E c'è sempre stato Non so Non è possibile No la glowstone si genera soltanto nel nether Questa cosa è strana E tra l'altro noi non ce l'abbiamo Non l'abbiamo mai presa Dai Ale sei stato tu No non sono stato io Guarda qua Guarda qua sotto Anche questo non si genera naturalmente ragazzi Non esiste Ma si può capitare questo Un buco così profondo Ma lo vedi quanti blocchi saranno? Fai attenzione al mostro Fai attenzione Dov'è? Ah Là 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 Tutto ciò è strano Carli tutto ciò è molto misterioso E possiamo andare via? Oh No Ale No 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 Carli no Dai no non viene il messaggio così Carli No Ale dai per favore Guarda in tab non c'è Clicca tab Io con tab ho zoom Vabbè clicca il coso per vedere i player Non c'è nessuno Siamo solo io e te No Ale vai via vai via dai Andiamo via No 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 Dobbiamo continuare a esplorare No Ale io sono messa male d'armatura Non siamo forti Ma non succede nulla Sta tranquilla Cosa vuoi che succeda? No no Oh No 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 è pericolo Guarda là c'è un blocco verde Perché c'è un blocco di terra in caverna? Vabbè può capitare il blocco verde No 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 Stanno capitando troppe cose strane Carli Cos'era quel tuono? Io me ne vado Non lo so L'hai sentito anche tu allora? Sì Vieni 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 Dobbiamo andare No no Cosa per andare su? Via 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 hele tipo non posso togli lasciare qua carne è pericolosissimo Non mi lasciare qua giù No no Oh Oh Vado a fuoco Perché hai perso fuoco? Non lo so Non ho acqua Sì che ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Aspetta Mi sono spento Mi sono spento Perchè hai preso fuoco? Che miseria Non ne ho idea Vieni vieni muoviti Dobbiamo salire No, no, non mi lasciare qua giù No, Carly Aspetta Subito Aspettami È maledetto È maledetto, il mondo è maledetto Il mondo è maledetto Lo dobbiamo rifare No Sì No No, lo dobbiamo rifare Aspetta un attimo Carly, non è normale quello che sta succedendo Stai scherzando? Ale, non mi lasciare il buio Non ho nulla qua Carly, non c'è buio Ci sono le torce, sta tranquilla No, non ci sono le torce Vieni, vieni, ti faccio salire io Dai, sali Sei pronta? Sì Tieni Oh! Oh! Io me ne vado Ma perché è così? No, io esco, io esco No, no, non uscire No, Carly, dobbiamo rifare il mondo No, 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 no Dobbiamo rifare il mondo Ma come? Ma perché? Come perché? Ma non vedi che cosa sta succedendo? Non mi lasciare qua da sola Ma, eh Cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo fare? Non ne ho la più pallida idea Cioè, ti giuro Non ho mai visto niente del genere Però qua fuori non c'è nessuno Ma hai rotto la croce Non l'ho rotta? Sì, l'hai rotta Forse è per questo Dai, no, non l'ho fatto apposto Carly, guarda Ma stavo salendo Porca miseria Dai, vabbè, che fa? Eh, riaggiustala così Perfetto No, 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 no Ma che fa se la rompi? Wah! Oh, dai! Ma sei una credulona Ho fatto tutto io Guarda Guarda qua Non mi eccitere Ferma, che ho poca vita Te lo meriti Vieni qua Stai bene? No, mi hai fatto paura Non mi ammazzare Non mi ammazzare Ferma, ferma, ferma Non mi ammazzare Dile le ultime parole Era solo uno scherzo Era solo uno scherzo Era soltanto uno scherzo Allora, la croce di Aerobrain Ti confermo che è strana Che ci sia nel nostro mondo Ma io dubito Che ci sarà Aerobrain Se dovessero succedere Delle cose strane Non lo so Allora, in quel caso Ci possiamo preoccupare Però Questo l'ho fatto io L'ho organizzato io Era uno scherzo, ok? Non mi ammazzare Non mi ammazzare Dai, Ale Ragazzi, io spero che questo video Vi sia piaciuto Carly, ti sei divertita?